Giovanni Seltralia è un insegnante, musicista, tecnico del suono, ma oggi è qui in veste di scrittore. Infatti, forse qualcuno di voi l'avrà sentito come coautore di Vola come una farfalla, scritto da Alessia Maurelli, appunto, con la collaborazione di Giovanni. Un libro scritto a quattro mani per ragazzi e lei è una campionessa olimpica di ginnastica ritmica, ma non voglio parlare di questo libro oggi con Giovanni, bensì di questo libro. Questo è La colpa dei padri, scritto interamente da Giovanni, ed è un fantasy ucronico estremamente originale, molto molto bello, a cui però arriveremo con calma. Infatti in questa puntata vogliamo ripercorrere le tappe fondamentali del fantasy, farci due chiacchiere sul fantasy come genere letterale. Anche perché da appassionati siamo quelli che possono parlarne, diciamo. Esatto. E poi, appunto, arrivare, dopo questa chiacchierata sul genere, al tuo romanzo. Andata. Bene. Allora, io per prepararmi a questa puntata ho pensato a quattro autori fondamentali della storia del fantasy. Ci sta. Tolkien. Ovviamente. Mika Elende, l'autore della storia infinita. Martin e Rowling, che sono più o meno contemporanei, pubblicano a metà degli anni 90. Sei d'accordo con questa scassione? Sì, io sono d'accordo. Poi ovviamente ognuno può farsi un po' la sua divisione nel tempo, però la cosa particolare del fantasy è che, non so, da appassionato mi ha sempre incuriosito, è il fatto che è un genere che nasce e in qualche modo muore nello stesso tempo. Cioè, se nella fantascienza, per dire, tu chiedi quali sono gli iniziatori, vanno a prendere Jules Verne e Wells, poi c'è, non so, la fase d'oro e Asimov, poi c'è la fase... Cioè, ci sono delle fasi, non un'evoluzione. Il fantasy ogni volta che se ne parla sembra che nasce e muore con Tolkien, che è un po' un peccato per gli autori che sono venuti dopo. Però oggettivamente sembra che, cioè, raggiunga il suo apice col primo autore. Ora, io ho anche una mia teoria su questo, però poi se io ve la dico... Prego, prego, vai, vai. Se interessa... Se interessa. Interessa. Allora, la questione è questa. Mi è venuta un po' l'illuminazione perché due settimane fa stavo leggendo un saggio di Mario Prats, che è tratto un figo, veramente un personaggio incredibile, perché è un anglista, un critico, dai, che scrive negli anni Trenta. Mario Prats ha scritto un saggio di critica che si chiama tematica, cioè che analizza i temi, che si chiama La morte, il sangue e il diavolo nella letteratura romantica. E quindi parla della letteratura romantica, quindi di una cosa che non c'entra niente. Però cosa diceva? Una cosa che mi ha un po' illuminato. Cioè, diceva che se tu prendi la letteratura dell'Ottocento, in particolare il romanzo storico e quello popolare, quindi quello storico, da Ivano a Notre-Dame de Paris, e quello popolare dal conte di Monte Cristo e tutti quelli lì, dice che derivano dallo stesso genere che è il gotico, quello del Settecento. Perché, vabbè, l'ambientazione, intanto ci sono sempre i castelli, c'è sempre le cripte, gli omicidi. Ma la cosa veramente che mi ha colpito è che poi anche i personaggi sono gli stessi, si ripetono sempre, cioè sono proprio dei prototipi, no? Adesso non degli archetipi, perché gli archetipi, sai quelli che si studiano anche a scuola, l'antagonista, il protagonista, vabbè, quelli si fanno a scuola. Però i prototipi sono più, per esempio, il protagonista è sempre un superuomo, non nel senso di Nietzsche, nel senso di, appunto, Edmond Dantes che lo mettono in galera, poi fa un sacco di soldi col tesoro e alla fine vince su tutte le avversità, no? Poi c'è, per esempio, la donna vampiro, che è quella un po' crudele che muove gli uomini, c'è la fanciulla che subisce tutte le angherie e poi muore. Io man mano che li leggevo dicevo, ma aspetta un attimo, cioè, se ci pensi, c'è la donna vampiro è Cersei Lannister, è la donna che è molestata da tutti e poi muore come la maledetta, è la Targaryen, no? La regina. Cioè, alla fine, se tu guardi il fantasy, ha gli stessi prototipi. Certo. Allora, la mia teoria, ma buttata un po' lì, è che probabilmente è un genere che nasce, diciamo, compiuto, perché in realtà c'è già tutta un'anticipazione, no? Poi, chiaramente, quella cosa lì, dai, della nostalgia dell'Inghi, cioè, il Signore degli Anelli è meraviglioso, ci siamo, per tutta l'adolescenza, illuminati, però vengono da un altro aspetto, cioè, vengono da tutto un altro filone, che è lo stesso filone di tutti quanti, cioè, della fantascienza, se tu prendi i supereroi, c'è ancora quella cosa lì. Cioè, è un genere che in realtà non è stato codificato con il Signore degli Anelli nel Novecento, ma esisteva già. Comunque, arriva da altre cose, no? E quindi, io immagino, eh, abbia permesso a Tolkien di arrivare già maturo a quella che poi era la sua idea, assolutamente originale, questo non mi permettere mai di dire che ha copiato, però, con tutto un bagaglio di cose che effettivamente lo portano a, allora, il Signore degli Anelli, ci sono, va bene, gli archetipi di una volta, il bene, il male, quelle che si dicono sempre, però poi ci sono anche tutta una serie di personaggi che hanno una ragione d'essere, anche in base a quello che era già stato scritto. E questa, vabbè, è la mia teoria che vi dono così, però, per quel che vale. Sì, però, è comunque interessante. Però dà un senso, capito? Dà un senso. Sì, e invece rispetto, cioè, parlando dell'evoluzione da Tolkien in avanti, allora, mi è detto che il genere nasce, tu dici, nasce e muore anche con Tolkien, nel senso che... Sì, insultando un sacco di ottimi autori, dicendo così, perché poi non sono ottimi. Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Nasce e muore con Tolkien nel senso che Il Signore degli Anelli è il primo vero romanzo fan... Sì, diciamo, li sento già, l'ho detto, è stato pubblicato prima. Sì, va bene, però... Il successo vero sta bene. Il Signore degli Anelli, ma è anche il primo fantasy codificato secondo i canoni che poi saranno ripresi da tutti quelli che vengono dopo. E è già il capolavoro del genere. Sì. Poi, sai cosa anche, secondo me la cosa insultante probabilmente è per quelli che erano i suoi coetanei, nel senso, c'era Lewis. Sì, le cronache di Narnia. Le cronache di Narnia, che a me, francamente, non mi hanno mai entusiasmato. A me sto leone che è il salvatore come Gesù Cristo mi lascia un po' perplesso. Però son gusti, cioè, è ovvio che è un grande autore, eccetera. E poi c'è anche, non so, c'è Lovecraft, voglio dire, che è vero, non è proprio fantasy, però sicuramente, cioè, quelli che sono venuti dopo Tolkien hanno preso da Tolkien, cioè, so, Stephen King, che era un grande ammiratore di Tolkien, ma prendo ugualmente anche da Lovecraft. È comunque un fantastico che si stava creando in quegli anni, probabilmente, no? Poi ognuno l'ha codificato a modo suo, perché poi, vabbè, l'esempio di Lewis mi sa che è un po' morto lì, perché non mi viene in mente uno che proprio ha seguito quel filone. Però, vabbè, Tolkien, poi penso che ne parleremo, e allo stesso modo Lovecraft, con tutto l'horror, il fantasy, il dark fantasy, è abbastanza lungo, insomma. Poi, Ende, che alla fine degli anni 70 scrive La Storia Infinita, che è molto più introspettivo. Che a te è piaciuto? A me ha un sacco. A me fa strano, perché, vabbè, l'ho letto che tanti anni fa, però è proprio strano come libro, perché è super metanarrativo, cioè, poi, non so, lo collego molto al film, inevitabilmente. Vabbè, allora, il film fa cagare, cioè... È un po', sì, dai, l'ottantiano. Non c'entra assolutamente nulla con il libro. Beh, poi, appunto, inserisce la metanarrazione, cioè, il lettore sta leggendo il libro che ha letto il protagonista. Sì, è che quello da bambino mi aveva un po' lasciato perplesso, francamente. No, ma se non ti... No, 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 mi piace io. Eh, vedi. E ci cercavo l'aurian sulla copertina, vabbè. Bellissimo. Sì, no, no, beh, allora, dai, è bello, cioè... Comunque, ha fatto... È un pilastro del genere. Ha fatto il suo. Alla fine degli anni 80 comincia, secondo me, il fantasy comincia ad arrivare un po' al punto di saturazione, comincia a mischiarsi con il cinema, con i giochi da tavolo, Dungeons & Dragons, per esempio Dragonlance. Allora, faccio outing. Allora, io mi sono appassionato con i Forgotten Realms, che erano i fratelli del Dragonlance. Magari qualcuno poi se li ricorda. Erano quelli degli Elfi Scuri, quelli dei... Vabbè, sono live che li ho ripresi in mano recentemente e non hanno retto la prova del tempo. Però, allora, io per esempio in questo qua, è una roba... Perché poi è strano, quando scrivi le cose ti ritornano fuori, no? Mi sono reso conto che certi aspetti della società principale, della città principale che è Ratisbonne, eccetera, e di ste famiglie che si combattono tra loro dentro la stessa città, allora, a fare il figo potrei dire, beh, ma come nella Firenze comunale. No, in realtà, è nei Forgotten Realms, c'era la città degli Elfi Scuri, dove ogni città si combatteva con le altre e potevano farlo, perché erano società crudele, bla bla bla, però non dovevano far vedere che l'attacco era avvenuto, cioè non dovevano lasciare prove, quindi voleva dire uccidere tutti i membri di sta famiglia. Chi sopravviveva, vabbè, poteva sopravvivere, lasciamo stare, poteva essere salvato, beh. Questa cosa, dopo averla scritta, mi sono conto che è uguale a quella robaccia che leggevo. Quindi, in realtà, quando sei ragazzino e leggi le cose, poi assumi tutto come una spugna, no? E quindi quello un po' mi è tornato su. Quindi c'era qualcosa che a un ragazzino piaceva, come a un ragazzino magari degli anni di Mila piaceva Aragorn. A me, Drago Lance, io ho letto qualche libro che sono tantissimi, poi. Io ho letto su quelli dei, come erano, i draghi? Io non mi ricordo, sono talmente tanti. Margaret West. Mi ricordo il nome del protagonista dell'ultimo libro che ho letto, che si chiama Tanis, mi pare, un mezzo elfo. È il mezzo elfo, sì, sì, mezzo che c'era in un po', o è lo stesso libro c'era in un po' di libri. Probabilmente, perché poi hanno legato la saga a Dungeons & Dragons, quindi facevano proprio le quest per Dungeons & Dragons che diventavano romanzi o viceversa, non ricordo. Comunque c'era questa commistione e i libri, sì, erano un fantasy, ma erano un po' una spazzatura. Un po' per ragazzini, da. C'era proprio un minestrone dentro, praticamente c'era un fondo di Tolkien, proprio scopiazzato anche. Eh, ma lì, occhio perché c'era anche di mezzo Terry Brooks, che era un altro gigante, che però, perché lì, anche lì è strano, perché gli imitatori di Tolkien, alla fine, cioè, negli anni Ottanta, direi, non ci giurerei ma occhio, c'era Terry Brooks. E vabbè, Shannara, non so se l'hai letto qualcosa, io forse la prima trilogia l'ho letto. No, no, ho visto tante volte in giro. Per anni è stato il campione, prima di Martin c'era solo Shannara e Dragonlance. E lì, vabbè, non è che sono brutti libri, però, cioè, lui ha detto, ok, adoro Tolkien, cosa faccio? Porto avanti proprio quella roba lì. Poi ha anche provato a fare cose diverse, tipo, mi ricordo che una delle trilogie era la trilogia della Gerle Shannara, le dico perché magari poi qualcuno le ha lette. La Gerle Shannara è la nave che va nell'altro continente, oltre l'oceano, e sfida dei supercomputer. E allora hai degli elfi contro i supercomputers, la magia, no? I druidi. Sì, sono commissioni che a volte... Eh, a volte funzionano, ma a volte... Diciamo che di solito non funzionano, tipo anche in Artemis Foul. È vero. Ci sono gli elfi con i fucili laser. Sì, anche Artemis Foul era stranissimo, vero. Però lì era giovane. Allora io ero molto giovane, quando ho letto il primo, ho detto, oh, che figata, la fantasy mischiata alla fantascienza. Un amante anche di fantascienza, però l'ho riletto anch'io, l'ho riletto recentemente, non ha retto neanche lui. Eh, beh, forse danno senso come libri generazionali, no? Poi fanno lasciare un po' il tempo che trovo. Esatto, precisamente. Una saga invece che non ha lasciato il tempo che ha trovato è quella di Harry Potter. Un altro colosso. Alla metà degli anni 90 comincia la saga, che non è che si distingua per, diciamo, stile particolarmente lirico. Però c'è un cuore lì dentro. Però esatto, esatto. Cioè non raggiunge mai il lirismo che raggiungono certe pagine del Signore degli Anelli. Certo. Però... Sì, allora, adesso sorvolando sulle ultime opinioni della Rowling, che sono sue, e anche io non voglio proprio, non mi ne frega niente, perché mi rovinano solo le esperienze. Esatto. E sorvoliamo anche sui film che sta facendo adesso. Non dobbiamo stare tutti. Però lì ci siamo innamorati tutti, dai. Cioè... Sì, sì, beh, ha portato... Harry Potter è stato un esperienzo. Allora, ha creato un mondo originale, indipendente da Tolkien. Nel senso, è ovvio che alcuni personaggi sono, cioè, Silente e Gandalf, va bene, i dissennatori sono i cavalieri neri, hanno anche più o meno lo stesso potere. Non sono mai pensato. E sì, loro si nutrono di disperazione, no? Portano... E come i cavalieri neri, la loro paura è il terrore paralizzante dei cavalieri neri, però più o meno portano disperazione. Sono... Fisicamente si assomigliano. E così. E è stato... Cioè, io personalmente la mia esperienza con Harry Potter è stata talmente fondante, faccio fatica anche a parlare. Ma noi, cioè, ci siamo cresciuti, quindi abbiamo anche uno sguardo, magari, che... Avevamo la stessa età di Harry quando uscivano i romanzi, quindi proprio... Sì, tanti che non hanno affrontato quella roba, anche giustamente, Harry Potter gli puzza un po' di sfiga. Cioè, il maghetto con gli occhiali, perché gli hanno un po' raccontato sta cosa, e hanno visto i film, che... Vabbè, anche lì potremmo aprire una parentesi. Però, secondo me, vista da chi ci è cresciuto, oggettivamente, cioè, chi mi ha insegnato il bene e il male sono l'uomo tigre e Harry Potter. Cioè, proprio... E Kenshiro, forse, se proprio dobbiamo... Però, sì, sono proprio queste cose qua. Perché, dai, anche un po' quella cosa dell'antirazzismo, no? Quella dei maghi e dei babbani. Questa cosa, comunque, dai, la scuola, e vabbè, il professore che ti sta sulle scatole, però alla fine ti sta aiutando, no? Cioè, sono tutte cose che tu da ragazzino prendi, assorbi un po' così, e poi, oggettivamente, nel tempo, uno ha elaborato e fa parte della propria storia, no? Anche lì, anche io scrivendo, tante volte mi metto delle cose e dico, ok, questo però è Severus Piton, questa è la megrana... Cioè, dico, anche no, cioè, deve un po' limare le cose, no? Perché, oggettivamente... Peccato poi che sia un po' evoluto male. Esatto, era qui che ti volevo. Harry Potter è anche il primo degli young adult. È vero, è vero, è vero. Perché io faccio un altro outing. Non sono uno che odia troppo, nel senso, cioè, il young adult. Perché? Intanto, nelle periodi di Harry Potter ne erano usciti alcuni, adesso magari qualcuno ce lo siamo anche condiviso ai tempi. Allora, beh, intanto c'era la bussola d'oro, non so se quella l'avevi letto. Non l'ho letto. No, non l'ho letto. Era molto bella. Quella è molto bella. Siccome anche recuperarla adesso... Eh, lo so, lo so, infatti lo devo recuperare. E poi lui è l'anti-Lewis. Cioè, lui ha deciso che le robe iper-cattoliche di lui non gli piacevano, e quindi martella su quello. Nel bene e nel marcia, che poi piaccia o meno, però è una cosa strana, no? Che nei romanzi dei ragazzini ci sia un discorso religioso, ateismo contro religioso. Cioè, è una roba particolare. Poi c'era la... Io mi ricordo sicuramente la trilogia di Bartimus, che era quella di Praga, che era lo spirito di Praga, che è molto bello anche quello, che c'erano i maghi sempre nel mondo reale. Poi c'era Artemis Fall. Artemis Fall, sì. Si può definire young adult? Eh, ma quelli lì erano prima degli young adult, però alla fine è sempre la storia di formazione. Lui fa quello che... Cioè, si comporta come un adulto, pur essendo un ragazzino, sì, potremmo... È un precursore, come Harry Potter. E poi sei arrivati a Aragorn, che comunque, beh, deve piacere. Io me le ho lette tutte, tipo, in due settimane, perché sono quelli che leggi proprio così. Sono quattro tomi, però sono quelli della letteratura americana, un po' che, dai, leggi così, non ti lascia molto, è gradevole. Sì, che ai tempi anche lui era stato zannato, perché il primo romanzo gli hanno pubblicato i suoi genitori, perché lui aveva 15 anni, era giovanissimo, quindi, ah... Sì, però anche lì è una roba strana, perché era uno educato in famiglia, di quell'America bianchissima, tipo del Colorado, del Minnesota, adesso dico cose che non sono sicuro, però era un po' strano. Cioè, c'era una storia anche familiare particolare. Lui aveva partorito, nerdissimo proprio, anche solo a vederlo, aveva partorito sta cosa. Poi non gli è più riuscita, tranne che forse recentemente ce l'ha di nuovo fatta. Ne ha pubblicato uno di Fantascienza, non mi interessa molto. E tra l'altro, nel periodo, cos'era, nei primi anni 2000, quelli di Aragorn, anche in Italia abbiamo avuto un sussulto fantasy, con Alicia Troisi, le cronache del mondo emerso, che anche lì... È quella roba lì. È un poichino young adult sull'onda di Harry Potter, l'onda lunga di Harry Potter, poi erano usciti i film del Signore degli Anelli, che erano... Anno fa... Cult. Che vogliamo dire. Esatto. E quindi poi lei, trilogia, era il periodo che c'erano trilogie ovunque. Twilight. Twilight non è una trilogia, però sono 18... Oddio, una tetralogia. Sono quattro libri. Sono quattro. Che ammetto che non mi dispiacciono in assoluto, però non li... Fuori da questo studio. Non li rileggerei. E Twilight è un po' particolare. No, e invece Alicia Troisi, che tra l'altro è stata anche recentemente al Salone del Libro di Torino. Osannetta. Oddio, mi devo togliere un po' un sassone dalla scarpa, perché è stata incoronata regina del fantasy italiano, penso che non siano arrivati a... Non mondiale. Esatto, mondiale, no. Però, anche lì, sì, sono i suoi romanzi, possono piacere la sua saga, però anche lì ci troviamo davanti a un minestrone che ha una base di Tolkien e poi ingredienti. Un sacco di ingredienti. Cioè, ci sono gli elfi, che sono i soliti elfi, razza superiore, sono belli, hanno le orecchie a punta, tutti... Certo. L'elfo tipo dell'immaginario. E poi c'è il cattivone, che è il tiranno, che è un signore oscuro, guarda caso, prima era buono, poi si è votato al male, ha un esercito privato di creature maligne che sono un'estensione della sua volontà, insomma. Di originale c'è molto, molto poco, quantomeno nelle cronache del mondo emerso. Non ho idea nell'ultimo romanzo che ha preso. Sì, allora, io non ho molto seguito, io penso di averne letti un paio, quelli di Nial nella Valle del Vento, vabbè. È il primo, è il primo. Era il primo, forse ho letto il primo. Lei sicuramente ha il pregio di aver riportato i personaggi femmini, cioè, c'è stato una, come dire, un sottogenere femminile del fantasy che è anche interessante, forse vale la pena anche dirlo perché se Tolkien è il padre del fantasy c'è la Bradley che è la madre del fantasy, quindi con le nebbie di Avalon, poi aveva fatto il ciclo di, che era un pianeta, però alla fine era un fantasy anche quello, non mi ricordo, Landover, Darkover, non lo so, io non lo so. Darkover mi sembra, e poi c'era stato le Terramare, quelli della Le Guin, cioè, c'è un filone anche interessante poi perché comunque da un punto di vista a me le nebbie di Avalon piaceva tantissimo, anche perché poi il mondo arturiano ha anche un sottogenere fantasy a suo modo, perché adesso al di là dei romanzi cortesi, però, che sono abbastanza illegibili, però, sono molto fantastici, poi ci sono magari nella versione più storica, e ci sono anche dei romanzi buoni di arturiani storici, dove sono personaggi più connotati dal punto di vista britannico, sassone, eccetera, tipo quelli di Jack White, vabbè, e, però, comunque, nei miei di Avalon, è proprio il fantasy visto dal punto di vista di Morgana, delle fate, delle streghe, che è interessante, oggettivamente, anche lì c'è una storia, cioè, perché, c'è la Brasile è stata fortissima, anche lì ha avuto dei processi in vita che sorvoliamo, anche che non so come sono finiti, però, però è un gigante, anche lei, e ha ispirato sicuramente tanti, penso fino a Alicia Troisi di sicuro, penso l'abbiamo anche citata in qualche intervista, anche la Murgia spesso cita la Bradley, non ti piace la Murgia? No, anche io non sono grande fan, però lei cita molto spesso la Bradley perché, oggettivamente, è stata un colosso, è stato un titano del fantasy, e, ecco, la Troisi, l'Alicia Troisi, comunque, ha portato i personaggi femminili, poi, allora, se dobbiamo però giocare, cioè, se dobbiamo giudicare la validità di un autore in base al fatto che ha portato, cioè, se il suo pregio è quello di aver portato un romanzo femminile, capisci, cioè, un romanzo femminile, un personaggio femminile, sì, è un po' diverso, ecco, quello gli dobbiamo dagli atto, che magari suona diverso da altri, poi, secondo me, guarda, l'hanno incoronato, diciamo, i giornalisti, poi, penso, Regina del Fantasy, perché, oggettivamente, il fantasy in Italia non ha mai molto attecchito, e, adesso, come dicevamo, mi viene in mente che, forse a parte Valerio Evangelisti, che è morto da poco, che, per me, è uno dei, degli autori più fighi che esistono italiani, lui, è uno che ha studiato storia, cioè, io invito veramente ad andarlo a seguire, perché è fantastico, cioè, lui è un laureato in storia, anche su un proprio storico, anche di lavoro ha fatto, poi, ha fatto una serie di cicli, il più famoso è quello di Eimerick, che è questo personaggio, appunto, ambientato durante la, contro, no, scusami, durante l'inquisizione, e va nelle varie, per esempio, va in, nelle varie regioni dell'Europa medievale, a trovare gli infedeli, i pagani, di varia natura, va anche, come si chiama, tra i manichèi, i catari, però ogni volta che arriva in questi villaggi, trova che in realtà ci sono dei malefici in atto, no? E questi malefici sono sempre spiegati in qualche maniera, o futuristica, quindi c'è un elemento di fantascienza, lui ha vinto anche un premio Urania per la fantascienza, col primo romanzo di Eimerick, mi pare, oppure comunque con il sovranaturale, quindi c'è un elemento fantasy forte, già in Eimerick, che però è più storico. Poi in realtà lui è curiosissimo perché è uno poi molto di sinistra, quindi tematizza molto il tema degli oppressi, cioè, e siccome lo fa anche in maniera molto bella, perché tematizza, appunto, gli oppressi, cioè, Eimerick è il protagonista, ma lui guarda gli oppressi dall'Inquisizione, poi lui è affascinantissimo perché è un anti-eroe, però, e poi guarda quelli che vengono colpiti dall'Inquisizione. adesso magari dico una cazzata, tu dimmelo che sei l'esperto di letteratura, comunque un po' il noir, un personaggio noir. Sì, perché è un personaggio dannato, come personaggio noir, sì, se avessi la sigaretta sarebbe Humphrey Bogart che fa un film noir. Ecco. Sì, sì, no, è così, e tra l'altro che usa la ragione, ma in maniera, uno dice, vabbè, Sherlock Holmes, però in realtà è in una maniera un po' un po' alla scolastica medievale, no? Ebbè, quindi è credibile nell'universo. Sai chi ricorda un po' venuto in mente adesso pensando alla scolastica ha il nome della rosa, c'è qualcosa di Eco. Ed è interessante, e poi vabbè, ha fatto una serie di cicli sul West, sui pirati, Valerio Evangelisti, poi è anche pop, cioè non è, gli autori italiani ce ne sono miliardi bravissimi, però prendi Eco, altro gigantissimo, però è un po' impegnativo, forse il nome della rosa è anche il più facile, perché poi c'è il pendolo di Foucault, è un bel, la regina Loana, è un bel, il cimitero di Praga, è impegnativo, cioè sono tutti un po', perché è Umberto Eco, cioè non puoi aspettarti una cosa leggera da Umberto Eco, e ci sta, è meno male che sia così, però Evangelisti riesce a tematizzarti una cosa interessante, c'è questo tema un po' degli oppressi del mondo, eccetera, però rendertelo anche affascinante, tant'è che ci hanno fatto un videogioco, la Mondadori sta ripubblicando tutti i libri, ha avuto un grande riconoscimento, purtroppo è morto un mese fa, e questi sono diciamo gli unici due, Troisi e... Ne cito altri, perché li conosco digitalmente, allora un po' glielo devo, c'è un collettivo che si chiama Ignoranza Eroica, e fanno un po' ridere, sono iper palestrati, mega fan di Schwarzenegger, sono, vabbè, sono molto simpatici, e loro hanno pubblicato sti libri un po' ironici, quindi non sono proprio seriosi, però anche con delle vette carine di lirismo, e scritti da Dio, peraltro, che sono ambientati nel regno di Taglia, che non è l'Italia, ma è Taglia, quindi c'è la pianura pagana, la provincia di Crimini, e poi sono romagnoli, no, sono emiliani o romagnoli, adesso non mi ricordo, quindi parlano anche di Terra che conosco, che è vivo lì, e loro fanno veramente spisciare, quindi li consiglio, loro hanno pubblicato Vilupera, Mattanza, vabbè, dei libri molto fighi, e poi sono un collettivo attivo, su Facebook si trovano, quindi sono fighi, però loro non possono essere incoronati re del fantasy, perché sono un po' dei guasconi, ok, quindi non li potrebbero, quindi immagino sia anche per quello che comunque la Troisi, dato che tanti sono cresciuti con i suoi libri, è più istituzionale, più cano, è anche più facile magari la casella. Anche se io continuo a dire, cioè, no, uno per essere inconorato re di un genere deve avere dei meriti letterali che, letterari, che la Troisi secondo me non ha. Ma arriviamo all'ultimo dei quattro autori che avevo citato all'inizio, Martin, che, allora, secondo me è ancora presto per capire se la sua saga invecchierà bene o male. Per adesso è una figata la saga di Martin, anche se non è ancora uscito l'ultimo, gli ultimi due. L'ultimi due? Ah, beh, io ero rimasto che mi mancava uno, invece due. E poi, secondo me è divertentissima quella storia lì, perché lui è un colosso in tutti i sensi, fisicamente e letterariamente. Però è vecchio. Quindi, lui non ce la farà, lo sappiamo tutti che non ce la farà. Infatti, io penso che ho iniziato una settimana fa a leggere una nuova saga che mi sto prendendo, che dopo anni che i fantasy dipende, qualcuno si, che è la saga della folgoluce di Sanderson. Sto Sanderson l'ho beccato perché dicono le voci che stia aiutando Martin a finire sia quello che sta per uscire, sta per uscire da sei anni, tre anni, sia quello che, a mio parere, e farei cinque a uno che non scriverà mai, che è l'ultimo, che è, no, il prossimo è Dance with the Dragon, no, non lo so, è l'ultimo, che è quello che devono uscire, l'ultimo, però non ce la farà mai e penso non voglia neanche farlo perché ha allargato troppo il mondo e sembra che Sto Sanderson lo stia aiutando e siccome Sto Sanderson è uno che tipo in pandemia ha scritto cinque libri, a differenza di Martin che avrà scritto cinque pagine, io confido che, ed è molto forte, raccolga le realtà, merita, secondo me merita, però sono al primo volume di cinque, alto così e avrò letto tanto così, quindi non lo so, però figo, è bello, a me piace. e in realtà poi Martin mi porta finalmente a il tuo, la tua opera. Dopo i Dragonlance, Lance e con... No, mi ha influenzato molto. Esatto. Innegabilmente. Ci ho visto tanto, Martin, a cominciare proprio dalla veste grafica dei capitoli, il cui titolo, cioè il titolo di ogni capitolo è un nome di uno dei personaggi perché è un romanzo corale. Cambia proprio il punto di vista. questo è proprio senza vergogna, lo dico. Io li ho letti, i libri, li ho amati, soprattutto i primi tre, possiamo dire tranquillamente che il quarto, il quarto è un po' una ciofeca, il quinto, carino, però li ho proprio letti da quando è uscita la serie, cioè prima, mi ricordo anzi, questo la racconto poi se non è interessante vedete voi. La cosa interessante, cioè io avevo trovato i libri in un media store quando avevo circa 12 anni. Peccato che la Mondadori... sai che non sentivo la parola media store dal 97. Come i media store? Perché praticamente avevo trovato, erano divisi i librini perché la Mondadori Benedetta, dato che pubblica l'altro libro, la Mondadori Benedetta divideva in tre libri ogni tomo e quindi avevo preso il libro di mezzo del terzo volume delle cronache del ghiaccio del fuoco. Quindi era quello dove fondamentalmente c'era lo sconto tra Oberyn Martell e la montagna e Tyrion Lannister e l'attaccò alla barriera. Tu dirai, fighissimo, una delle parti più entusiasmanti, cioè bene, peccato che se tu prendi solo quello non avevo capito niente, cioè non capivo dove stava la regina dei draghi, non capivo, c'erano 20 mappe e non capivo niente. E quindi ho detto, certe cose mi erano rimasti in testa tant'è in particolare mi ricordo il duello della montagna di Oberyn che finisce in quella maniera lì dove sono i miei occhiali esattamente in cui mi aveva folgorato questi non sono i miei occhiali ma non facciamo spoiler perché non vorrei mai che qualcuno da dieci anni è indietro e quello mi aveva folgorato tanto però poi poi c'erano le copertine che facevano di Luca Tarlazzi che era un illustratore di fantasy che faceva fumetti porno e fantasy celtici ed era bravissimo e quindi aveva queste copertine che mi avevano attirato però non avevo capito niente poi è uscita la serie e ho detto ma io questa scena l'ho già vista me la ricordo vado in libreria nella insomma come si dice la scaffale dei libri recupero il librico vedi che sapevo già le cose c'ero arrivato ma non avevo capito niente perché c'erano già in libreria in mezzo a Terry Brooks però erano poco sì perché è uscito il primo libro di Martin è uscito nel 96 è uscito un anno prima della pietra filosofale quindi era già e lui è un altro che poi è esploso adesso con la serie tv ma cioè adesso nel 2010 ormai sono passati 12 anni sì però no è vero e lui è un altro della generazione di scusami di Terry Brooks e di King e anagraficamente ed è sicuramente interessantissimo che Terry Brooks ha fatto il fantasy tolkieniano puro diciamo heroic fantasy Stephen King con la saga della torre nera l'ha fatto un po' horror un po' alla Stephen King che poi l'influenza di Stephen King cioè di Tolkien su Stephen King se tu it l'avevi letto no? ricordi la forma finale di it qual era? era Shalob in pratica quindi un'influenza incredibile e poi Martin che l'ha fatto a modo suo in maniera che tutti noi amanti del fantasy penso siamo rimasti sconvolti assolutamente infatti l'ho messo non a caso nei quattro sconvolti nei quattro snodi anche se poi temporalmente è contemporaneo Harry Potter però sono due pilastri anzi forse forse un po' di più Martin mi sentirei di dire proprio a livello di storia della letteratura perché io romanzi così corali così complessi ma anche così dotti se posso permettermi ce n'è pochi non ne avevo la tematizzazione del potere è fighissima forse dopo l'anello è la cosa più cioè proprio scomelli che vedi veramente l'autore che ti rimane cioè quando ti dice una cosa e tematizza bene una cosa perché è lì anche un peccato perché poi la serie televisiva è andata un po' in vacca anche per quello hanno smesso di tematizzare hanno smesso di parlare di quello che era la cosa più figa di tutto cioè chi è che comanda in una società cioè loro la metafora è chi siede sul trono di spade ma chi deve sedere l'erede di sangue l'erede che ne vale di più quindi l'erede di sangue forse varis che diceva se in una stanza ci sono un soldato un monaco e un mercante e un soldato e ognuno dice al soldato di uccidere gli altri al soldato ha chi obbedisce a chi ha i soldi chi ha la morale o chi ha la forza è interessantissimo cioè se ci pensi è interessantissimo perché è una domanda senza risposta che tematizza poi con tutti questi personali vabbè meraviglioso dai trono di spade e infatti ci ho visto un sacco anche della lotta per il potere allora andiamo con ordine è un fantasy ucronico che cos'è un ucronia per la prima la questione che tra l'altro è il diciamo la caratteristica che rende questo romanzo particolarmente originale secondo me il fatto che sia un ucronia sì cioè allora cos'è un ucronia è chiaramente una parente dell'utopia perché ucronos è senza tempo l'altro è senza luogo che poi in realtà può essere benissimo scambiato anche un'utopia un ucronia vabbè in realtà è un termine abbastanza così però l'utopia e la distopia che è poi la sua versione più nota anche perché ci sono un sacco di romanzi distopici ultimamente sono comunque figli della fantascienza guardano al futuro l'ucronia guarda al romanzo storico perché ha bisogno di due cose il punto di divergenza che deve essere sensato cioè la più classica dell'ucronia è se Hitler avesse vinto la seconda guerra mondiale quindi i romanzi ucronici sono quei romanzi che sono ambientati nel nostro mondo nella nostra linea temporale e a un certo punto divergono c'è un ramo una ramificazione e adesso tra l'altro gli universi paralleli vanno anche di mole la marvel li sta riprendendo perché è affascinantissimo io li trovo curiosissimi ricordo che quando ho letto L'uomo nell'alto castello che è la più nota delle ucronie la svastica sul sole in Italia tradotto con la svastica sul sole o anche fatherland di Harris poi è anche molto bello e ce n'è un po' bello adesso sì ma ce ne sono diversi i romanzi ucronici ce ne sono un po' belli e quelli del nazismo sono quelli che sono andati di più poi a me affascina tantissimo che hanno ste mappe alternative e io sulle mappe mi ci faccio proprio le pip hanno la Germania che occupa parte dei continenti perché oltre al punto di divergenza la seconda cosa che serve è un'evoluzione credibile della storia cioè che non è completamente a caso non è che Hitler vince la guerra e quindi i delfini diventano i padroni del mondo o gli africani diventano nazisti cioè non avrebbe senso deve seguire la nostra storia ma in maniera parallela quindi la guerra fredda c'è comunque sì però tra i vincitori della guerra mondiale che sono il Giappone che si prende il Pacifico e la Germania che si prende l'Europa e questa è la storia della spastica sul sole e questo io lo trovo affascinantissimo allora mi sono detto a me piace il fantasy e mi piacciono sono queste cronie possibile che non abbiano fatto una cosa cioè un punto di divergenza che non sia realistico ma sia effettivamente sovrannaturale poi guardando l'unico che ho trovato un po' vicino è una saga di Tartel Dove che è come si chiama il ciclo dell'invasione mi pare te la faccio breve arrivano gli alieni durante la seconda guerra mondiale e i cinesi mi sembra stanno dalla parte degli alieni i nazisti quindi però è più fantascienza esatto però non come il principio non è diversissimo nel senso che è molto più fantascientifico però immagina che il punto di divergenza sia un evento sovranaturale e io ugualmente ho immaginato che una razza diciamo di creature sovranaturali arrivasse nel nostro mondo quando durante la fine dell'impero romano quindi questo mi dava intanto la possibilità di ambientare il libro in quello che è il mio periodo storico forse preferito c'è l'alto medioevo che è affascinantissimo anche per il trono di spade che oggettivamente è ambientato un po' in quell'epoca lì e poi di inserirvi l'elemento fantasy che io trovo interessantissimo cioè l'impero romano non cade per i motivi storici pressione dei barbari tutti quelli che possiamo elencare cade perché arrivano arriva questa razza sovrannaturale diciamo così che poi si chiarisce man mano nel libro un po' più di più la sua natura e i popoli possiamo forse visto che è proprio l'inizio possiamo anche anticipare qualcosina come no sono angeli loro li chiamano angeli perché chiaramente è già una società religiosa perché e quindi li identifica come angeli che sono i loro dei diciamo tutti ispiri anche visto molto molta epica biblica ti giuro pensavo stessi per dire molto evangelion perché c'è anche molto evangelion ovviamente evangelion ma perché anche evangelion prende l'epica biblica sì 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 evangelion mentre lo dicevo mi sono reso conto tra l'altro proprio in questi giorni io sto riguardando evangelion meraviglioso meraviglioso sì quindi insomma questa razza sovrannaturale fa in modo che non è molto chiara perché chiaramente loro li chiamano angeli e hanno anche l'aspetto abbastanza somigliante almeno alcuni poi man mano si capisce che sono più delle diciamo creature di una dimensione particolare in particolare adesso non voglio fare proprio il pippone non voglio neanche anticipare troppo però c'è una spiegazione che è parascientifica mettiamola qui pararazionale diciamo più che nell'ambito del meraviglioso e puramente sfrannaturale siamo nell'ambito dello strano come avrebbero detto nei teorici del fantasy della letteratura fantastica e quindi sì sicuramente mi sono ispirato a questo quello che mi affascinava era anche un'Europa alternativa in cui intanto la questione imperiale non muore ma si sposta anziché tra i latini e i mediterranei che vengono distrutti da questa invasione perché Roma è la prima città che viene distrutta proprio in quanto centro del potere politico e si sposta a nord tra quelli che erano i popoli più giovani allora e più energici è quello che è successo nella storia reale anche il sacro romano impero esatto esatto quindi c'è un sacro romano impero diciamo anticipato nell'alto medioevo e che deve in qualche modo riunire gli umani contro una minaccia esterna quindi io trovo molto affascinante l'idea che in un mondo antico che era per definizione uno scontro continuo di religioni etnie quello che c'era immaginarli uniti contro una minaccia esterna poi in realtà non sono così uniti poi c'è tutto uno sviluppo c'è anche la città di Venezia che in qualche modo è una Venezia alternativa è tardo antica però già con dei tratti della Venezia mercantile a me la cosa la cosa che ha più affascinato del tuo romanzo cioè diciamo la civiltà è quella da antichista è quella dell'Egitto che praticamente sembra che dopo la fine dell'impero romano sia rispuntato fuori l'Egitto tolemaico dell'epoca ellenica e quindi c'è il faraone che si chiama Tolomeo Ptolemaios Nebti Ptolemaios sì lì allora anche lì avevo di fronte varie cose però ho pensato questo se una effettivamente una razza che gli esseri vedono gli esseri umani vedono come divinità scende sulla terra perché ricordiamolo comunque nel tuo romanzo prima che arrivasse questa razza superiore la storia è la nostra quindi c'era la chiesa di Roma c'era l'imperatore di Costantinopoli che era anche il capo della chiesa il concilio di Nicea c'è stato c'è stato possiamo dire che c'è stato il concilio di Nicea e quindi poi queste creature che loro cioè gli umani di questo libro percepiscono come angeli sono arrivati gli angeli forse la seconda venuta di Cristo e invece poi è successo un casino infatti la religione scompare per forza di cose perché come fanno a resistere delle religioni in particolare monoteiste di fronte alla venuta di angeli come li percepiscono loro che intanto fanno un gran disastro e poi non portano alcuna rivelazione cioè non portano alla fine del mondo e poi l'apocalisse e poi la risurrezione eccetera non c'è nulla di tutto questo riconoscono per forza di cose la fine delle religioni monoteistiche quindi come in Europa non può sopravvivere il cristianesimo di fronte a questa cosa anche se poi delle rovine del cristianesimo ci sono in Egitto e nel mondo che poi sarebbe diventato arabo ma lì ancora si barcamenava in una tarda antichità si è fatto come tutto l'impero romano d'oriente per continuare a vivere di quello anzi l'Egitto in particolare recupera la sua storia millenaria anche lì stupenda che poi entriamo nell'Egitto quello tolemaico è bellissimo no Alessandrino però quello antico poi anche d'archeologo classico preferisco quello quello Alessandrino concordo no no concordo 100% quella è stata un'epoca incredibile infatti quell'Egitto lì è l'Egitto è l'Egitto Alessandrino ci sono i pezzeteri ci sono le sarisse poi qua siccome Bukabuk che è l'editore mi aveva detto di tagliare in realtà c'erano altri quattro capitoli in cui c'era anche proprio mandameli scusa che manda mi aspetta a seguito ma infatti perché allora questo è parte prima questo è la parte prima ciclo dei Daeva parte prima quindi vuol dire che ci sarà una parte seconda una parte terza tecnicamente sì e mi hanno fatto tagliare già un sacco di capitoli che era infinitamente lungo già questo è abbastanza impegnativo però era un terzo in più e diciamo che dal punto di vista militare era molto rappresentato l'Egitto Tolemaico poi verrà presentato in seguito però sì è molto affascinato l'epoca lì è veramente bella sì sì ebbene allora abbiamo detto dell'alora abbiamo parlato i personaggi non abbiamo citato un autore fantasy però che mi sta qui non a citarlo quindi voglio farlo adesso è stato anche è stato anche abbastanza di ispirazione allora mi spiace perché è un autore dimenticato è della generazione di Tolkien quindi è uno dei primissimi però a differenza di altri come Lewis è proprio fighissimo Marvin Peek la saga di Gormenghast dimenticata infatti mi hai sentito esatto io uguale a te cioè c'è dentro dal deserto dei tartari al gotico la saga di Gormenghast è famosissima in Inghilterra o nel mondo anglosassone tant'è che c'è l'aggettivo Gormenghastly che vuol dire super gotico c'è una cosa proprio poi anche Gast penso c'entra anche coi fantasmi c'è una cosa proprio è la storia di questa fortezza immensa su una roccia gigante piena di cunicoli quindi vedi che torna anche il tema del gotico del settecento e in cui c'è questo duca di Gormenghast che fa tutta una serie di cose ed è affascinantissimo ed è pubblicato in Italia da Adelphi in quelle edizioni che costano 30 euro l'uno e quindi non sembra neanche un fantasy perché i fantasy di solito sono coi colori accesi no? un po' anche copertini un po' trash sì decisamente è quello invece di grandissima proprio chicchissima l'edizione ed è proprio bello ed è una trilogia ne ho letti due anche perché non c'ho i 30 euro per prendere quella il terzo libro vabbè ed è una saga che siccome va veramente recuperata è molto matura cioè non è magari appassionante come Tolkien neanche lontanamente come Martin però se uno si mette lì ti vuol proprio esprimere qualcosa e intanto è importante perché Tolkien lo conosceva benissimo quindi anche per capire Tolkien magari può servire recuperare Marvin Peake e poi ha avuto una sua grande influenza sugli scrittori anglosassoni da noi rimosso e su di te evidentemente però su di me almeno grazie a Michele Mare ma in particolare la rappresentazione di queste città formicolanti perché la capitale è Ratisbona di questo impero del nord sì che ci sono i castelli le torri delle varie famiglie che è molto italiana come cosa in realtà poi può essere benissimo Siena dunque le torri sono collegate sia sotto sopra hanno dei come dire diciamo le torri che si alleano per ultime si collegano magari a trarsi i ponti tanto dall'espressione tagliare i ponti deriva proprio da questo ah io lo sapevo sì sì le torri adesso non so bene penso nel basso medioevo in ambito penso sempre anglosassone tagliare i ponti significava tagliare i ponti che collegavano le torri di due famiglie nobili che si erano alleate quindi tagliare i ponti era la fine dell'alleanza adesso spero di non dire una stupidaggine però due a uno è così e l'ho letta da qualche parte e l'ho riutilizzata che giustamente uno scrittore copia quello che legge nulla nasce dal nulla ecco sì e quindi è molto formicolante questa realtà di no le vecchie alleanze vanno sono collegate sottoterra le nuove alleanze da questi ponti fragili no quindi questo Marvin Peake un po' mi ha mi ha ispirato e insomma ci sono questi personaggi che si muovono in questo mondo che però è ambientato la storia comincia 500 anni dopo la guerra contro gli angeli cioè la situazione si è normalizzata e c'è sconvivo gli angeli convivono si sono stati sconfitti tendenzialmente ma non del tutto e si convivono gli uomini convivono con queste creature si queste creature sono rinchiuse dentro la vecchia Gerusalemme sta per succedere qualcosa sta per succedere qualcosa si sta per rompere l'equilibrio commettiamola così e i personaggi si muovono in questo mondo che è semidistrutto un po' in via di ricostruzione un po' che recupera le sue radici antiche come l'Egitto tolemai come poi c'è l'impero di Ratisbona che è una sorta molto longobardo esatto anche a livello di nomi ho lavorato molto le varie famiglie hanno tutta un'ascendenza o longobarda o gotica qualcuno francona tipo quindi dai anche linguisticamente qualcuna come gli elfe sono tutti nomi invece gaelici è un po' ragionata diciamo così si ma si vede che ci hai messo decisamente poi per gli appassionati possiamo dire che per gli appassionati di fantasy ci sono lunghissimi elenchi di nomi che sono la cosa che più fa piacere e le mappe confermo da appassionato di fantasy confermo confermo assolutamente allora è un libro assolutamente da comprare secondo me da avere nella propria libreria possiamo dire che dovete scrivere a me perché la stampa è già finita poi magari ne fanno un'altra diciamo che se mi scrivete su Instagram io ho una pagina che è Ucronie Parallele che in realtà ormai sta diventando un po' il mio profilo personale come autore e lì insomma basta contattarmi e ci vuol poco perché questo libro l'hai pubblicato con questa casa editrice indipendente che è book a book sì che consiglio per chi vuole partire perché ti aiutano in qualche modo ti dicono noi ti aiutiamo se il libro è mediamente valido e non è proprio da buttare noi ti aiutiamo con l'editing eccetera con la promozione ti aiutiamo a prevendere 200 coppie se riesci a arrivarci poi noi ci lavoriamo diciamo te lo stampiamo e tutto quanto però chiaramente iniziano a stampare quelle copie lì poi si vede per adesso è super limitata quindi per chi vuole se lo cercate su Amazon non lo trovate dovete scrivere a Giovanni al sottoscritto ucronie parallele su Instagram va bene caro Joe sono stato felicissimo di averti ospite a Humanistic Valley super piacere insomma abbiamo sempre condiviso questa passione dei fantasy possiamo anche dire noi ci conosciamo da tanti anni siamo stati in classe insieme al liceo penso la prima persona con cui ho legato su questo argomento perché nel paesino non gliene fregava niente a nessuno mi ha fatto super piacere bene e spero che tornerai magari a parlare di vola come una farfalla se avete delle nipoti come te del resto quindi te lo regalo bonitieri grazie regalateli voi non ve lo regalo ma comprate vola come una farfalla che è PM del battello a vapore che è una garanzia insomma è un'istituzione che conoscono tutti magari tornerai qui a parlare parleremo di letteratura per ragazzi e possiamo anche parlare qui di young adult c'è un casino quindi prossima puntata Twilight parliamo bene direi che per questa puntata è tutto io sono Mattia io sono Giovanni e questo è Humanistic Valley ciao bene direi che per questo appunto eri pronto? grazie anzio bene direi che scusami no 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 un po' guardo guardo grazie a tutti grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie.